Dio ti guida come un padre Anche quest'anno la nostra comunità parrocchiale di San Bartolomeo, Apostolo e Santa Maria delle Grazie in Penta vivrà un momento molto importante, quella che è la festa dei Santi Compadroni Sant'Anne e San Gioacchino. Una festa per il nostro Paese importante perché nelle figure di questi due Santi, di questa coppia di sposi, vogliamo vedere un pochettino il percorso delle famiglie che intendono vivere e abbracciare quelli che sono i valori cristiani, i valori della fede, anche quelli appunto della famiglia. È sempre bello vedere nei Santi non solo dei protettori ma dei modelli da voler imitare, da voler seguire, in modo particolare, come dicevo, questa coppia di Santi appunto di sposi. Ecco, quest'anno avremo questa sera alle ore 19 le confessioni per i portatori a seguire la Messa dei Portatori e domani 26 di luglio ci saranno le messe secondo il consueto orario, alle 6.30 la prima Messa, alle 7.30, alle 8.30, alle 9.30 e alle 11.00 la Santa Messa Solenne. Dopodiché nel pomeriggio, alle ore 19, ci sarà la predisposizione e la preparazione per uscire in processione e portare i nostri Santi per le vie del Paese perché possano accogliere i desideri, le speranze, benedire le famiglie e gli ammalati del nostro Paese. E noi ci raccomandiamo alla loro intercessione e anche preghiamo per quanti, pur non essendo presenti, magari perché lontani per motivi lavorativi o per altri motivi, possano sentirsi uniti a noi in questo momento di fede e di spiritualità.